Ovunque nel mondo Royal Canin sviluppa con passione il territorio della nutrizione salute al servizio del benessere dei cani e dei gatti. Royal Canin con i suoi prodotti di qualità ineguagliata, è un'azienda unica e veramente differente. I migliori soggetti del quinto raggruppamento. Grazie per essere qui con noi, benvenuto. A te Katia l'onore di presentare questi splendidi soggetti, a cominciare da? A cominciare dall'Alaskan Malamute. Alaskan Malamute, traino pesante, prende il nome della tribù dei Malamute, Alaska. Akita Inu. Akita Inu, il cane dei samurai. American Akita. Deriva dall'ibridazione della razza Akita Inu con molossoidi e cani di origine europea per aumentarne la struttura e anche l'attitudine allo scontro fisico. E' il cane che ride, il samoyedo. E' infatti dai territori settentrionali della Russia il samoyedo. E' una razza antichissima, è il cane dei faraoni. Chissà da dove viene il cane dei faraoni. Non dall'Egitto, ma da Malta. Razza maltese, faraohound. Dalla Finlandia, il cane da orso della Careglia. Nome originale di questa razza, Carialanka Rukhoira. Noi siamo abituati ad avere tutti i cani da caccia di tipo bracoide, per cui con le orecchie pendenti, mentre in Scandinavia abbiamo cani da caccia di tipo volpinoide, lupoide, come questo cane da orso della Careglia. Proseguiamo con il Lapincoira. Lapincoira, ovvero cane Lappone, Lapponian Herder. E' un cane da pastore per le renne. Proseguiamo con un cane per il traino leggero, il Siberian Aski. Siberian Husky, traino leggero, origine siberiana, nazionalità americana. Asiatico di origine, ma inglese d'adozione, il Ciao Ciao. Ciao Ciao, caratteristica l'andatura sui trampoli, la lingua di colore blu astro. Le rughe sulla fronte prendono il nome di scroll. Cirneco dell'Etna. Cirneco dell'Etna, guardate l'andatura particolarmente leggera, che gli consente di camminare sulle pietre taglienti dell'Etna. Shiba Inu Shiba Inu, torniamo in Giappone. Piccolo spitz giapponese da caccia. Basenji Il cane da caccia degli Ottentotti, silenzioso a un certo punto, non è in grado di abbaiare, diciamo, ma non assolutamente silenzioso. Cacciava con un campanello di legno intagliato per essere trovabile nella boscaglia. Proseguiamo con lo spitz medio. Spitz medio, altezza intorno ai 35 centimetri. Origine tedesca, sempre anche per la successiva razza, che è sempre uno spitz, di una taglia un po' più piccola, quindi lo spitz piccolo. Spitz piccolo nero. Spitz significa cuneo, in quanto questi volpini tedeschi hanno il muso appuntito, le orecchie appuntite, ed ha anche il nome a tutta il raggruppamento, la parte di raggruppamento con il pelo folto, quello degli spitz, mentre i cani di tipo primitivo mantengono le stesse caratteristiche, ma con il pelo corto. Sempre spitz piccolo e un'altra varietà di colore. Arancio carbonato per questo spitz piccolo, per cui abbiamo un'altezza intorno ai 30 centimetri, 28 centimetri al garese. E concludiamo con lo spitz nano. 22 centimetri al garese di altezza per questa razza, circa, la più piccola delle varietà di ceppo spitz. Questo è uno dei raggruppamenti su base morfologica più omogeneo di tutto il panorama cinofilo. Come potete vedere si assomigliano un po' tutti, a prescindere dalle dimensioni e dalla lunghezza del pelo. Il fatto di essere razze primitive fa sì che l'azione dell'uomo su queste razze, a parte qualche eccezione che tende a mantenere la taglia particolarmente ridotta come il volpino nano, ne faccia generalmente delle razze sane, con pochi problemi sia dal punto di vista articolare che oculare. Abbiamo diverse attività che possono svolgere questi soggetti. Estremamente addestrabile, per esempio, è il Lapin Coira. Oltre che essere un ottimo cane da pastore, la sua addestrabilità fa sì che sia anche molto addestrabile per attività di agility e così via. È un cane da pastore vestito da cane nordico. Abbiamo quindi un cane da caccia all'orso, anche in questo caso vestito da cane nordico. Ottimi cani da guardia sono gli Akita. Ed ecco la preselezione dei finalisti. Spitznano, Cirneco, Siberian Husky, Pharao Hound, Samoyedo, Akita Inu. E Spitz Piccolo che raggiunge la propostazione. Un bel applauso e ringraziamento agli altri soggetti che lasciano il ring. Li vedremo ora muovere singolarmente. A partire dall'Alaskan Malamut. A te l'onore di commentare questa razza. Razza di origine americana, l'Alaska, tra i nomi della tribù dei Malamut che l'ha selezionata, l'ha allevata. Razza utilizzata per il traino pesante. Anche se assomiglia molto al Siberian Husky, diciamo che coloro che non conoscono possono confondere facilmente la razza, sono differenziate per parecchie particolarità tipiche proprio delle due razze, ma soprattutto per quanto riguarda il tipo di utilizzo che ne viene fatto. Traino pesante, quindi velocità più ridotta per l'Alaska a Malamut, traino veloce, quindi velocità più elevate per il Siberian Husky. Razza tedesca, quella che vediamo sfilare ora, dello Spitz Piccolo. Tutti gli Spitz sono sottoposti a conferma d'Italia, ovvero devono essere presentati in esposizione, in quanto essendoci una continuità tra le varie taglie, molto spesso ci sono dei soggetti che nascono magari nani da due soggetti piccoli, o viceversa, per cui viene richiesta la conferma d'Italia. Molto interessante notare le andature particolari che hanno soggetti come l'Akita Inu, in quanto questo soggetto che, come abbiamo detto prima, prende i propri Natali nella città di Akita, in Giappone, ha una struttura tale per cui anche l'andatura e la spinta del posteriore sia particolare. Samoyed è una razza nordica da slitta, pensate che il Duca degli Abruzzi ha raggiunto il Polo Sud con una muta di soggetti appartenenti a questa razza. Il colore è bianco, può avere le orecchie biscotto, ma pensate che una volta erano presenti anche dei soggetti di colorazione nera. E' denominato il cane che ride, in quanto la conformazione delle labbra fa sì che sia atteggiato in una specie di sorriso. Razza molto particolare è quella del Pharao Hound. Guardate il Pharao Hound, guardate il Cirneco dell'Etna, vi posso citare il Podenco Ibisenco, il Podenco Portugese, il Podenco Canario, sono tutte razze caratterizzate dalla stessa struttura morfologica e si differenziano dalle altre per omogenità di tipo. Sono dei soggetti con comportamenti anche molto primitivi, per cui richiedono un padrone piuttosto esperto. Bisogna rapportarsi a queste razze con un occhio particolare, in quanto hanno delle caratteristiche di reattività, gli stimoli molto particolari. Lo stesso vale per i Siberianaschi, che viene tacciato di essere poco ubbidiente, ma bisogna pensare qual era il compito che questa razza doveva svolgere e il territorio dove questa razza si è diffusa. E' ora la volta del Cirneco dell'Etna. La classica colorazione, infatti, quella del Cirneco, unica colorazione riconosciuta nella razza, ossatura fine, estrema leggerezza di movimento, per una razza che sicuramente va valorizzata e di cui va favorita la diffusione. E come il Farahound e le altre razze che vi ha citato prima Stefano, sono razze molto antiche, appartengono al ceppo delle razze primitive, in quanto sono razze che arrivano fino ad oggi mutate nel tempo. Pochissime sono le variazioni che si hanno, i cambiamenti che ha subito questa razza da quando la razza è nata. Infatti si trovano delle raffigurazioni e dei dipinti molto antichi che rappresentano queste razze molto simili a quelle che sono le razze che vediamo ai giorni nostri. Spitznano prende il nome di Pomeranian. La Pomerania è una regione settentrionale della Germania. Noi lo chiamiamo Volpino Tedesco Nano, in Germania si chiama Zwergspitz. Tutto per rappresentare questa splendida razza di Natali molto antichi, caratterizzata da un mantello foltissimo, caratterizzato dal doppio pelo, pelo di copertura che ne caratterizza l'impermeabilità e la protezione, e sotto pelo quale isolante termico. Mentre vengono scritti Di chi è questo? Un topino, un topino. Ed eccoci pronti. Adesso siamo solo in due a saperlo, te non lo sai. Fammi dare una sbirciatina. Ecco. Fandà un ugiada, va? Fatto, basta. Eh sì, sì. Siamo pronti per chiamare sul podio, per cui terzo posto Katia. Al terzo posto lo Spitz Nano. Premia al quinto raggruppamento l'amministratore delegato di Amico Petz Stefano Bardini e Cesare Calcinati, consigliere del gruppo cinofilo milanese. Al terzo posto un cane piccolo. Al primo posto, cioè al secondo posto, ci mettiamo un cane grande, che è l'Alaskan Malamut. E primo cosa ci mettiamo? Eh, vedi un po' te. Una via di mezzo, uno piccolo, una piccola, ce ne sono più. Ma io, il primo amore non si scorda mai, ma ve lo dirò solo dopo, qual è stato il mio primo cane d'esposizione. Diciamo che è tra i finalisti. Ma non ha vinto. Come razza. Ma non ha vinto. Ma non ha vinto. Perché il miglior soggetto del quinto raggruppamento è il Cirneco dell'Etna. Cirneco dell'Etna sul gradino più alto del podio. Concedetemi un applauso particolare al Siberian Husky, che è la mia prima razza d'esposizione, che devo ringraziare per essere stato introdotto in questo splendido mondo delle esposizioni cinofile. Cogliamo quest'attimo di interscambio tra i raggruppamenti per chiamare nel pre-ring tutti i soggetti appartenenti al settimo raggruppamento, quello dei cani da ferma. Tutti i migliori di razza dei cani da ferma sono pregati di recarsi nel pre-ring. Grazie a tutti.